bella per voi regà la serie senza tempo perso tanto ormai l'inizio del video non si cambierà mai però quattro ciao paguri ciao paguri ai nostri amici paguri mamma mia ragazzi 4 a 0 ragazzi il risultato oddio non dico bugiardo però insomma la fiorentina che soprattutto al primo tempo ha macinato ha macinato gioco e azioni e occasioni sì non tantissime però comunque qualche occasione molto pericolosa però niente noi abbiamo reagito veramente da da grande squadra nel senso da lazio da lazio c'è niente da una trasferta che aveva tutte le caratteristiche per essere difficilissima fiorentina che comunque è una buonissima squadra un buon interpreti un buonissimo allenatore che però viene da un sacco di sconfitte consecutive più o meno insomma risultati non esaltanti e l'allenatore che appena detto il telefonista cinque scontri con la lazio e con sarri cinque sconfitte e dove andrà così fratelli ha preso il muro chiamato patrick in realtà oltre al fatto della fiorentina che ha giocato molto bene se ovviamente un gol o due se li meritava noi abbiamo fatto quattro cuore che ma in difesa solidissime oggi uno dei migliori in capo è stato marzic e poi oraccio che è successo è uscito non so che probabilmente si era a mezza commozione come se le cerebrali fratturata il tetto nasale ma molto probabilmente è uscito il lacrime perché lo stava sostituendo isai e molto probabilmente per quello che piangeva però razio indietro solidissima anche quando è entrato di sai a parte che si va bene così scherzo parte che stavano quasi per caso al rigore però sì stavano quasi per caso al rigore il primo tocco della partita però sì difesa solidissima ma questa è la terza partita in campionato consecutiva gli famo 4 gol 4 a 0 e 0 gol subiti quindi e quarta vittoria consecutiva in campionato sì 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 grande evoluzione da parte della squadra dei tarri incredibile da dall'altro anno a quest'anno è stata una evoluzione in difesa clamorosa e patrick veramente oltre aspettative over the top bene anche romagnoli appunto benissimo mariusic che si immola sempre per per la patria lazari buonissima partita peccato l'ammunizione dell'orfanta calcio però va bene emilinkovic due assist uno brutto uno brutto l'ennesimo assist di tacco per immobile il terzo ormai il terzo quarto non mi ricordo sette assist in campionato va bene i numeri parlano chiaro ormai ci stanno più parole per emilinkovic savic beh quando non gioca come come in austria emilinkovic però vabbè la un po tutti hanno giocato male però vabbè sta cosa dalla trasferta in europa che sta un po qua ciro che torna al gol dopo tanto quindi siamo contenti io sempre meno perché ricordiamo lui c'è la fanta calcio probabilmente vinco grazie a ciro oggi oggi gioco contro di me che fa gol e assist assist per il luizalberto che entra dal secondo tempo entra malino poi si 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 mangia un gol cioè fa un'azione solitaria quando poteva passarla o a ciro a cancellieri decide di tirare invece strozza al tiro come al solito invece poi appunto bell'assist una bomba clamorosa a fil di palo e eppure oggi non gli ho usato di niente a luizalberto che ha segnato alla fine poi il gol dell'ex di vesino gran partita di vesino che non esulta giustamente però poi anche quando dall'ultimo al primo comunque dei gol e si si però perché giusto così anche quando diciamo è stato spostato come vertice basso si è comportato molto bene ha preso un sacco oggi abbiamo tutti bene sì penso che il migliore in campo è stato zaccagni zaccagni forse sì anche ai punti con le assist e vabbè proprio ciro con le assist però insomma zaccagni tanta tanta corsa tanta qualità ma soprattutto migliori in campo perché 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 ha tirato un calcio d'angolo abbiamo segnato a calcio d'angolo per via è incredibile questa cosa rimarrà questa questa partita come la partita in cui è vero dicevamo allora non c'era luisalberto quindi il calcio d'angolo l'ha tirato un altro zaccagni e ha segnato quello che si è studiato luisalberto vesino quindi luisalberto devi partire dalla panchina hai risegnato cioè il testice è scritto fallo fallo ma se è bastato il telefono mi sa che si è bastato infatti che sto facendo un po' sempre più giù e poi segna pure zaccagni di testa gran gol movimento del corpo in naturale non ho capito come ha fatto ma ha segnato bene così ma soprattutto abbiamo parlato di marcos antonio che oggi la prima partita di luare mi pare perché non so se inizia no era fatto un'altra di dolare e una me pare e ha giocato molto bene secondo me non si è fatto vedere moltissimo ha sbagliato qualche passaggio sì però in un variato in un frangente in cui tutti stavano sbagliando i passaggi perché la Fiorentina era molto molto aggressiva appunto dopo il 1 a 0 soprattutto la Fiorentina ha menato però in mezzo al campo si vedeva che chiudeva tutte le linee dei passaggi le chiudeva il posizionamento si sa posizionare molto bene anche se effettivamente fisicamente si vede che ogni tanto può soffrire la sua statura però può giocare ragazzi può giocare possiamo metterlo in campo al posto di Cataldi no? chiamo sta che gioca lui al posto di Danilo non tutte le partite ma una l'altro cioè io pure oggi stavano tutti morti alla fine Felipe Anderson stava a schiattare giustamente sostituito da cancellieri Ciro tutta la partita sinceramente niente di dire c'è a corso come al solito però lui non si risparmia però poi ne risente la qualità è vero è vero però sta partita si me li sento la qualità delle sfoggiocate e pure oggi non abbiamo visto né Basic né Romero che niente potevano entrare a 5 minuti dalla fine all'85esimo stavamo 4 a 0 va beh era una pesa per culo fa l'entrata a 5 minuti dalla fine intanto fai per spegnere questo vabbè parlando di Lazio questo è quanto è tutto abbiamo detto tutto la Fiorentina come già detto in live per gli altri giorni c'è una mancanza clamorosa di una punta che sta a segnare di una punta che fa la punta Piovic è un paio 400 palle la Piovic 2-3 proprio cui poteva segnare anche Nico Gonzalez all'ultimo sbaglia il gol diciamo la Fiorentina non dico sfortunata ha preso anche una traversa una pure noi mi pare di giro mentre ero al bagno hanno sbagliato l'acquisto più importante di tutte la Fiorentina incredibile la fiction più importante della mia vita ho sbagliato la protagonista René Ferretti c'è di specie Papa Fiorentina ma anche sti cazzi però voglio dire a parte menzione a parte per diciamo il settore ospiti che si è accantato tutta la partita e anche i tifosi fiorentini sinceramente a parte che ci hanno detto tutti i colori però anche loro tamburi e canti quindi onore anche a loro che hanno sostenuto la loro squadra si però 4 e ce li prendiamo e rimanete a 9 noi saliamo a 20 ciao Fiorentina è stato bello giovedì tutti allo stadio ci incontreremo con Adler del Lazio Club Monaco Scar si chiama Famo arriva in tempo ma si forse Campanile e stavolta non ci schiatti e tutti quelli che sono là Ponte Milvio e poi stadio dai forza Lazio poi spegni anche tu ah si forza Lazio